L'amante senza fissa dimora di Fruttero e Lucentini Prima parte Capitolo primo Quando Mr. Silvera si decide, infine, Look, look, Mr. Silvera, ad allentare la cintura di sicurezza e a protendersi sopra i suoi vicini per sbirciare dall'oblò, Venezia è ormai sparita. Non vede che un lontano frammento di mare color alluminio e un immediato massiccio trapezio d'alluminio, l'ala. The lagoon, ripetono i turisti della sua e delle altre due comitive che riempiono il volo Z114. La lagoon, a laguna. Come sempre, è per loro indispensabile nominare, più che vedere, le città e i templi e le statue e gli affreschi e le cascate e le isole e tutte le terre e le acque che pagano per visitare. Look, look, the Coliseum, the Sixteen Chapel, the Kashba, la Pyramid, la Tour de Pise, The Lagoon, sembrano invocazioni per suscitare cose immaginarie, farle esistere per pochi istanti prima che si ritraggano dal cerchio magico. In cinque o sei cercano naturalmente di trattenere per sempre la laguna con le loro cineprese e macchine fotografiche. Indifferente a queste illusioni, Mr. Silvera si risistema al suo posto, le lunghe gambe tese di sghembo nel passaggio tra i sedili, un sorriso benevolmente automatico pronto a scattare. Visto di profilo, è un uomo sui 40 anni, alto e magro, con una nitida testa da medaglia, le spalle leggermente curve di uno sportivo, per esempio un accanito giocatore di tennis che a un certo punto, per una certa ragione, abbia smesso completamente, oppure invece di uno scacchista, piegato da lunghe meditazioni sull'alfiere. Le sue mani sottili, delicate e nervose, fanno pensare al poker e alla roulette, ma anche a sapienti contatti con porcellane, pergamene, strumenti musicali, e con calze femminili, con sete e pizzi e ardui fermagli di collane. Un uomo insolito, che fa blandamente, stoicamente, un mestiere per lui un po' incongru, un po' meschino, capo comitiva, accompagnatore e animatore turistico. Di solito li scelgono più giovani. Gli altri due gruppi del volo Z114 hanno per guida una ragazza che ride sempre e una specie di tozzo contadinello con un ciuffo biondissimo sugli occhi. Silvera ha preso in consegna la sua comitiva stamattina alle 6.15, davanti alla sede delle Imperial Grand Tours, l'agenzia londinese di viaggi per la quale lavora da qualche tempo. Gli è bastato il tragitto in Puna fino all'aeroporto di Heathrow per far conoscenza con queste 28 persone, o piuttosto per incasellarle nella sua memoria, che è notevole e abituata a classificazioni istantanee. Solita gente, solita clientela dell'Imperial, pensionati, piccoli bottegai, piccoli impiegati, artigiani, di nazionalità ricorrenti, inglesi e francesi in maggioranza, ma anche sudamericani e canadesi, qualche scandinavo, due giamaicani, due indiani, un portoghese con la figlia adolescente che non sacca mai da Mr. Silvera i suoi grandi occhi notturni. Anche i nomi sono sempre gli stessi. Johnson, Torres, Pereira, Pettersen, Singh, Duran. Il volo Z114 ha fatto scalo due volte a Bruxelles e a Ginevra, raccogliendo le altre comitive. A Ginevra ha imbarcato anche tre passeggeri in lista d'attesa, il cui volo per Venezia e Atene era stato cancellato. Due uomini d'affari greci e una donna italiana che ora siede alla stessa altezza di Mr. Silvera dall'altra parte del passaggio centrale. Una hostess dai larghi fianchi percorre in fretta questo corridoio, cerca gli ultimi bicchieri di carta da portare via e Silvera ritira di scatto le sue lunghe gambe, le sorride, ma lei resta col suo broncio appuntito, assorta in congetture amorose o più probabilmente in rancori sindacali. Silvera si stringe di un filo nelle spalle, fa ruotare di un niente il suo sorriso e l'italiana dall'altra parte del passaggio glielo ricambia. Sono finiti, si dicono i loro occhi maliziosi, rassegnati, i tempi in cui i passeggeri venivano trattati con riguardi da grande albergo, con premurosità da asilo nido. E d'altra parte, che cosa si può pretendere con dei passeggeri, con delle imbarcate di turisti di questo genere? È già tanto che li facciano arrivare fino a Venezia per quello che hanno sborsato. L'apparecchio tocca terra, frena in un gran soffio rabbioso, rallenta lungo l'orlo della laguna. «Well», mormora alzandosi Mr. Silvera, «well». L'alta statura sembra dargli una vaga superiorità, smentita dalla giacchetta di Tweed molto liso, dai piccoli buchi bruciacchiati sul davanti dell'impermeabile che sta infilando. La ragazza che ride sempre già si affanna con la sua comitiva. Il contadino biondo raccomanda la disciplina e la calma al suo branco, che è il più numeroso. «Well», sospira Mr. Silvera, tirando giù la sua borsa. Si accorge che anche la sua vicina italiana sta cercando di arrivare a un suo valigiotto e lo tira giù lui, glielo porge cavalleresco. «Thank you», dice la donna. «Ah», dice Mr. Silvera, agli occhi lontani. Poi viene inghiottito dal suo gruppo. «Please, please, Mr. Silvera». Ci sono soprabiti e sciarpe da recuperare, sacche da estrarre dai ripostigli, pacchi dimenticati sotto i sedili e gli impazienti da trattenere, i ritardatari da pungolare. La figlia del portoghese lo segue a capochino, fissandolo di sotto le bellissime ciglia nere e viene contata in fondo alla scaletta di sbarco, dove Mr. Silvera e i due altri capigruppo sono fermi nel vento a dividere le loro genti. Ma non è a lei che Mr. Silvera porge la mano per farle scendere l'ultimo scalino. L'omaggio, eseguito con malinconico distacco, con un'indefinibile ombra di complicità, è per la signora italiana. «Thank you», ripete lei, seria. «Ah», mormora senza guardarla Mr. Silvera. Se ne va verso l'aerostazione alla testa dei suoi, che tutti camminano voltati verso il vasto alluminio della laguna perché neppure un centesimo di quella tariffa economica vada perduto. Il gruppo della ragazza francese li ha preceduti al controllo passaporti e alla dogana, ma poi le cose scorrono via senza inciampi. Nessuno in realtà controlla niente. E al di là delle barriere, ecco già Mr. Silvera che coagula ancora una volta i suoi 28, gli impedisce di disperdersi fra gabinetti e bar. «No, no», dice indulgente. «No cappuccino, please, no vino». Di nuovo escono nel vento e sul piazzale alcuni pullman sono in attesa. Ma loro sbandano verso la laguna, che comincia a pochi metri sulla sinistra e svanisce laggiù, contro un orizzonte lanuginoso. Attraccati a un pontile, dondurano in mezzo ai gabbiani quattro o cinque snelli motoscafi con bandierina a poppa. «Taxi?», chiede uno dei marinai. «Venedig taxi?», «Taxi venise», ripete indicando un punto lontano di là dalle acque. Poco più avanti, la committiva del contadino biondo si lascia cadere con strilli e risate a bordo di un panciuto barcone cabinato. Una protesta si propaga negli occhi dei 28. E noi? «No boat», dice risoluto Mr. Silvera. «No boat, no barco, sorry». I prezzi che pratica l'Imperial, spiega, non consentono l'arrivo a Venezia per mare attraverso la grigia laguna. Per l'Imperial c'è un bel pullman italiano, a fine Italian coach tutto rosso, che passerà sul famoso ponte. «A Famous Bridge?», si consorano i 28. «Sì, il più lungo d'Europa», mente Mr. Silvera, respingendoli verso la terraferma. Lui resterà qui ancora un momento a controllare che i bagagli siano correttamente caricati sulla motobarca della cooperativa Facchini e correttamente avviati a destinazione. Adesso è solo sul pontile e guarda la laguna come un principe, un condottiero che ne prenda in fine possesso. «O che invece si congedi da lei, che l'abbia perduta per sempre?» Uno dei motoscafi si stacca da riva, traccia sull'acqua un'elegante parabola e punta veloce su Venezia fra le strida dei gabbiani. Vicino alla bandiera di poppa c'è, per l'ultima volta, l'italiana del volo Z114. Ci sono io. «Ah!», mormora Mr. Silvera. «E non rispondi al mio saluto, non alza la mano, mentre il suo impermeabile sbatte come un frusto vessillo grigio nel vento di novembre. Così l'ho conosciuto, così l'ho visto per la prima e, credevo, per l'ultima volta». Io non avevo dato peso, allora, al fatto che Mr. Silvera facesse il capo comitiva, l'accompagnatore, l'animatore turistico o come altro diavolo si dica. In mezzo a quella plebe volante, l'avevo per forza notato alla prima occhiata e registrato con interesse quasi professionale, lui e il suo profilo da medaglia antica, ma senza incuriosirmene di più, senza starmi a chiedere come fosse finito con quegli abbrutiti che lo interpellavano in continuazione. «Mr. Silvera? Mr. Silvera?» L'avevo infilato in un immaginario, personale catalogo d'asta, con la definizione «viaggiatore insolito, perfino un po' misterioso» e mi ero poi rimessa a pensare agli affari miei. Adesso, naturalmente, non so dire che impressione mi avrebbe lasciato, se l'avessi considerato innanzitutto sotto l'angolo di quel suo, chiamiamolo così, mestiere. Che va benissimo, intendiamoci, per studenti con pochi soldi che vogliano girare il mondo d'estate. Il figlio di Rosi, una figlia dei miei cugini Macchi, l'hanno fatto per anni. Ma che in novembre, praticato da adulti con comitive di quel livello, si può definire soltanto miserabile. È probabile che mi sarebbe scaduto senza rimedio il signor Silvera. L'avrei liquidato con un pensierino commiserativo del tipo guarda quel poveraccio, cosa gli tocca fare coi capelli grigi. O forse, dato il cognome, pensa a te quel povero sefardita a cosa si è ridotto per campare. Un fallito, un morto di fame, un boom. E da questo genere di prime impressioni, un uomo non si rialza più. Quindi, dopo, le cose sarebbero andate in tutt'altro modo, anzi, probabilmente, non sarebbero andate da nessuna parte. invece, grazie a quella mia fortuita e un po' assonnata disattenzione, eccomi qui a riflettere sul mio mestiere, chiamiamolo così, e a trovargli significativi punti di somiglianza col suo. È un mestiere non meno vagabondo, un mestiere in cui bisogna ingraziarsi allo stesso modo la clientela, mandar giù rospi e umiliazioni, sempre disposti a blandire, lusingare, placare, lisciare delle persone perfettamente orride. È un mestiere che ti porta a frequentare la bellezza, a cercarla, valorizzarla, illustrarla con assoluta indifferenza, senza in realtà più vederla. Forse esagero, ma l'unica differenza tra un accompagnatore turistico e me mi pare questa adesso, che quello viene retribuito con un fisso ridicolo e qualche mancia meschina, mentre me mi pagano con crepitanti assegni su banche prestigiose. Di lì la separazione, lui col suo greggio sul vaporetto, io in motoscafo al mio albergo sul Canal Grande, la finzione di un'accoglienza d'altri tempi. Come sta? Di nuovo veneziana? È andato bene il viaggio? Ha visto che tempo? C'è un po' di posta per lei? Le preparo un Manhattan, un tè cinese? Cose così, dette con quella familiarità professionale destinata a farmi sentire a casa mia anche a distanza di mesi. E il vecchio valletto Tommaso, che manovra l'ascensore con la gravità e solennità di un ciambellano addetto alla mongolfiera di Luigi XVI, sentenziando, come tra sé, sempre più bella. Sa fare il suo mestiere, ti dice una frase del genere, ma lasciandoti capire che è la traduzione in lingua grande alberghiera di un vernacolare urca o di una più cruda espressione che gli sale dai consunti lombi. Ma sono poi tanto consunti? Io controllai di sfuggita nelle generose onnipresenti specchiere dorate, constatando che anche loro sapevano fare il loro mestiere. Vidi e subito catalogai, senza dimenticare la bella cornice in stile coevo, un ritratto di giovane donna assegnabile a maestro toscano ombro del primo cinquecento, con influssi botticelliani e lippeschi da una parte, perugineschi dall'altra. Raffaellino del Garbo? A prescindere dall'ensemble de voyage di scuola franco-giapponese, Iseimiake, la ritrattata presentava infatti spiccate affinità con diverse madonne di questo artista, oltre che con la bionda e avvincente dama di profilo che il Berenson, seguito dal mio amico Zeri, gli attribuisce nella collezione della baronessa Rothschild a Parigi. Un ritratto tanto più soddisfacente in quanto, avendo Raffaellino o chi per lui cortesemente omesso letati sue Triginta Quattor, gli anni si potevano senz'altro ricondurre a 30 e anche meno. Sui folti tappeti incrociamo dei giapponesi procedenti in silenzio e in doppia fila come i ducande, tutti uomini, tutti vestiti di scuro. Almeno loro non fanno baccano, osservò Tommaso con condiscendenza. Ne avete molti anche fuori stagione? Sempre di più in tutte le stagioni. Ma, dice che sono turisti ma per me vengono qui a copiarsi Venezia, vedrà che un giorno o l'altro si metteranno a fabbricarne una loro, un'imitazione perfetta. ma subito si pentì del suo scherzo che del resto doveva aver già fatto con successo chissà quante volte. Venezia non si può imitare, disse fieramente. Eppure la sua è un'impressione che qualche volta ho anch'io in questa città troppo guardata, come se quei milioni e milioni di pupilli ammiranti avessero lo stesso impercettibile e perpetuo potere di erosione delle onde, ogni occhiata un granellino di Venezia rubato, succhiato via. Senza nemmeno disfare le valigie, telefonai a Chiara per farmi confermare l'appuntamento del pomeriggio. Dovevo visitare una collezione di quadri antichi ma di valore ancora non accertato e cercare eventualmente di assicurarne la vendita a Fox, la casa d'aste per cui lavoro. Chiara è la nostra corrispondente locale e l'appuntamento me l'ero già fatto confermare due giorni prima, ma a Venezia non si sa mai. In questa città dove la fretta è sconosciuta, tutto può sempre essere rimandato a lunedì prossimo. Pronto, Chiara? Ho rischiato di rimanere a terra ma sono qui. Allora va bene per le tre? Stetti a sentire col previsto disappunto il disappunto in questo mestiere è la regola, come le tre andassero sempre benissimo ma non andassero affatto i quadri. Altri l'avevano ormai vista quella vantata collezione Zwanich e l'avevano trovata una mera raccolta di croste. Autenticamente sei o settecentesche mi dicono ma croste. Chi è che le ha viste? Un po' tutti ormai. Anche dalla sovrintendenza hanno mandato qualcuno ma si sa già che non metteranno nessun vincolo. Pare che sia proprio robetta, quadri d'arredamento come dicono loro. Il solo che adesso se ne stia interessando è Palmarin. Ho cercato di avvertirti a Parigi ma eri già ripartita. Comunque già che ci sei non vuoi dare un'occhiata anche tu? Vada per l'occhiata. E poi c'è forse un'altra cosa una segnalazione su una villa di Padova che ci viene dallo stesso Palmarin. Con lui avremo appuntamento per le cinque. Vada anche per Palmarin. Disfeci le valigie passai sotto la doccia poi telefonai per farmi invitare a casa da Raimondo massimo amico veneziano. Divina disse una sogliola da me subito. Non posso ho un appuntamento tra poco. Cena allora. Ci contavo. La gioia immensa dette dalla sua voce un po' chioccia e in tono accuratamente piatto distratto sbrigativo le iperboli che usa continuamente non mancano quasi mai di farmi ridere. È una linguaccia pettegola e maligna un feroce tagliatore di panni addosso ma non contro di me perché io conosco il suo segreto e sono in grado di ricattarlo. Fu quella volta che lo sorpresi mentre trascinava la pesante valigia di una vecchia turista tedesca in difficoltà su un ponticello dalle parti dei frari. Lui cercò di cavarsela sospirando cosa vuoi a otto anni sono stato violentato da uno scoutmaster. No caro sei in mia mano gli sorrisi spietata adesso so che hai un cuore. Il suo palazzetto in ruga giuffa sempre pieno di ospiti multicolori è forse la cosa meno lontana da quella che doveva essere la Venezia di un tempo. Scesa al ristorante ordinai per pigrizia una sogliola e mi guardai distrattamente intorno constatando una volta di più come sia ormai impossibile a Venezia vedere persone che siano propriamente persone individui. Tutti questi che mandavano giù dei manattano dei bellini me ovviamente compresa avevano l'aria di essere qui per conto di qualche fondazione università associazione internazionale grande industria grande museo perfino dalle coppie dispose in luna di miele c'era da aspettarsi il cartellino di riconoscimento appuntato sul bavero o le ricevute per la nota spese nella borsetta di Gucci mentre là fuori su e giù per il famoso canale sfilavano le figurine turistiche incollate ai vaporetti come in un album di etnologia elementare ecco un carico di biondi teutoni e scandinavi ecco un grappolo di facce gialle ecco i neri grumi spagnoli o greci ogni comitiva stretta intorno al suo mister Silvera anche se è onesto dirlo io non pensai neppure di sfuggita mister Silvera e la cosa mi sembra inverosimile imperdonabile ora che di quelle ore senza storia senza di me vorrei sapere tutto pezzo per pezzo istante per istante ma si può immaginare si può in gran parte ricostruire quando ha controllato che anche l'ultimo dei suoi assistiti sia salito sul vaporetto vite vite madame Dupont mister Silvera si spinge avanti nella calca e viene a trovarsi dietro un gruppetto di russi dalle carnose e rasate nuche gli aderisce alle spalle la ragazza portoghese che abbassa gli occhi arrossendo quando lui si gira a chiederle se tutto va bene tutto ok? in ogni comitiva c'è sempre un adolescente che si innamora di mister Silvera sempre un paio di anziane signorine di inesauribile energia sempre una coppia di coniugi litigiosi sempre un ipocondriaca sempre un pignolo saccente e scontento di tutto sempre un ficcanaso pettegolo è come viaggiare con un campionario pensa mister Silvera che nella sua viaggiante carriera è stato anche rappresentante di gioielli fantasia cambiano di volta in volta pietre modelli metalli ma le collane sono sempre collane le spille spille nella sua veste di capocomitiva è già passato per Venezia più volte ma conosce bene la città per esserci stato in precedenza e in circostanze meno superficiali tuttavia di quelle altre sue venezie mister Silvera non parla mai le tiene rigorosamente in disparte non se ne serve per il suo attuale lavoro potrebbe indicare ai 28 un palazzo meno ovvio arricchire di un aneddoto un campanile sottolineare un certo giardino illuminare una certa cupola ma si attiene al minimo indispensabile ponte degli scalzi canale di canna regio fondaco dei turchi cadoro ponte di rialto omette la riva del vin e dopo un attimo di esitazione anche palazzo Bernardo look look mister Silvera a real gondola ah dice mister Silvera yes indeed conosce altri nomi di imbarcazioni locali gondolino caorlina mascareta ma non li rivela perché sarebbe fiato sprecato si dice perché certe cose non interessano più nessuno e tanto meno i suoi 28 ma la verità è che quella sua latente venezia di broccati ori porpore cristalli non si può nemmeno sfiorare senza pena e soprattutto non c'entra niente con la venezia schematica impersonale dell'imperial sant'angelo santo ma carezzonico accademia il vaporetto passa dall'una all'altra sponda del canal grande accosta sbarca 30 danesi imbarca 30 bambini che tornano da scuola riparte verso il prossimo pontile con uno strappo prosaico laborioso da mulo d'acqua la comitiva deve scendere a san marco per visitare la piazza omonima la basilica omonima e il palazzo ducale ma in primo luogo per mangiare mister silvera sa che se non mangiano a loro stabilita diventano nervosi guidati attraverso i secoli per assistere alla presa della bastiglia al sacco di roma alla battaglia delle termopili verso l'una comincerebbero non di meno a dar segni di inquietudine a scambiarsi cenni significativi quando si mangia ma non si mangia e ci sarebbe almeno una donna che si sente pericolosamente vuota e un'altra più previdente che aprirebbe la borsetta e le offrirebbe a biscuit mrs gomez aggradesse un bonbon signora wilkins e tutte e due rivolgono un'occhiata di rimprovero a mister silvera che guadagna qualche minuto col ponte dei sospiri e giacomo casanova poiché i 28 confusamente credono che casanova sia finito in questo carcere per questione di donne e che ne sia evaso per amore di una donna mister silvera glielo lascia credere mettendo in moto un gioco di effetto infallibile eleggere il casanova del gruppo qui subito adesso sulla riva degli schiavoni tra risate che allarmano i gabbiani viene infine prescelto il signor bustos un vivace ometto sulla cinquantina la cui moglie è inevitabilmente più lusingata di lui il gioco li divertirà fino a stasera verrà ripreso saltuariamente nei prossimi giorni conoscerà un breve ritorno di fortuna proprio alla fine del viaggio e sarà poi rievocato con delizia dall'interessato di venezia tra mille anni il signor bustos ricorderà forse soltanto che qui effimeri compagni lo battezzarono casa nova no less mister silvera guarda il profilo delle isole vicine e lontane i tratti d'acqua che come oceani miniaturizzati minuscole prue solcano in ogni senso e pensa a voce alta in spagnolo mille anni questa città ha mille anni chi gli è vicino la scambia per una memorabile informazione turistica e ripete impressionato milanios a thousand years look look mister silvera the pigeons seguiteli ordina pronto mister silvera che sa come trattare le sue comitive ed ecco che seguendo il volo dei mille sbatacchianti piccioni si arriva in piazza san marco piazza san marco dove mister silvera lascia tutti quanti ai loro reciproci riti fotografici per andarsi a occupare dell'unico pasto veneziano incluso nella formula dell'imperial si infila in uno scuro sottoportico chinando macchinalmente la testa prende per due o tre callette sbagliando direzione una sola volta scorge infine laggiù l'insegna della triglia d'oro la trattoria pizzeria in cui due lunghi tavoli per complessivamente 28 coperti dovrebbero già essere apparecchiati e in attesa ma capisce subito a fiuto che qualcosa non va nella calletta stagnano odori di cucina vecchi di mille anni di un millennio di menù turistici ma manca il pungente fumigante greve odore dell'immediato futuro la triglia d'oro ha cambiato giorno di chiusura che è sempre stato il lunedì un cartello sbilenco sulla porta sprangata avverte chiusura settimanale martedì non hanno avvisato non hanno mandato un telex a londra un locale come la triglia d'oro non manda telex né a londra né altrove mister silvera resta un momento pensoso alza gli occhi verso la pendula in segna sopra la quale aleggia un gabbiano forse in cerca di rifiuti edibili un passo concitato risuona nelle vicinanze si ferma di colpo laggiù a un imbocco della calletta c'è la ragazza portoghese immobile e scarlatta le mani in mano ma a testa alta ah mormora mister silvera bronzei e immobili coi loro lunghi martelli i due mori della torre dell'orologio sono in bilico tra l'una e le due commettive di ritorno dai luoghi di ristoro cominciano a riaffluire verso il campanile il palazzo ducale la basilica ma sbucando dal sottoportico nello schiaffo luminoso e ventoso della piazza mister silvera individua subito il suo gruppo laggiù sul lato opposto del colonnato è raro che si avventurino e si perdano li tiene insieme l'incuriosità la timidezza l'ignoranza della lingua straniera mister silvera ne parla perfettamente un numero imprecisato altre ne ha imparate dimenticate e li tiene insieme in questo caso ciò che essi chiamano fame una specie di delegazione gli marcia incontro con aria torva come di ammutinati ma mister silvera è pronto ad alzare le braccia mostrando i due grappoli di capaci rigonfi sacchetti di plastica azzurra che gli pendono dalle mani food grida drinks vino alle sue spalle colorita raggiante avanza l'adolescente portoghese che trasporta vino in fiaschi e altre due sacchetti stracolmi di panini pizzette lattine mister silvera ha approfittato di lei nel modo che lei senza saperlo desiderava di più le ha svelato l'imprevisto inciampo organizzativo le ha chiesto aiuto consiglio e insieme sono entrati in un bar o sticceria dove hanno comprato col fondo d'emergenza dell'imperial tours quando più o meno basterà rifocillare i viaggiatori picnic grida mister silvera picnic senza dirlo riesce a dare l'impressione che il picnic in piazza san marco sia una bella sorpresa un originale variante espressamente programmata dall'agenzia qualcuno brontola ma senza convinzione l'idea piace è una cosa che potranno poi raccontare mister silvera sceglie come a caso ma le ha già valutati infallibilmente due donne e un uomo e affida loro la complicata spartizione dei viveri non diversi dai piccioni i 28 si accoccolano quasi tutti sui gradini lungo il colonnato e cominciano a becchettare il pasto improvvisato chi cerca un tovagliolo di carta chi si rovescia il vino o l'aranciata sui pantaloni chi fotografa dal basso in alto la memorabile scena mister silvera si appoggia a una colonna a qualche metro da loro la ragazza portoghese gli si avvicina con un panino e una birra ma mister silvera le oppone un rifiuto suave no grazie non ho fame prenderò qualche cosa più tardi non le dice che la nutrizione gli appare in questo momento un processo disgustoso disperato e tuttavia la ragazza mentre torna accanto a suo padre addenta il panino di malavoglia quasi stesse commettendo un tradimento capitolo secondo il portoncino di quercia che era solo un portoncino di quercia incastrato ai piedi di una facciata alta e stretta confusamente cosparsa di tutte le possibili sbiaditure del rosso veneziano avrebbe potuto dare accesso a niente di più che a tre basse stanzette con un artigiano intento a riparare ferri da stiro sotto una lampadina nuda le sgangherate imposte di legno erano state verdi cornici di pietra ingrigita porosa inquadravano ogni finestra e tutto il campiello una dozzina di case senza ambizioni aveva la stessa aria flaccida inservibile di un muscolo da gran tempo in atrofia naturalmente il vero ingresso doveva essere dall'altra parte sul canale tra pali marci dove in anni lontani stava attraccata la gondola di casata ma nessuno più oggi può permettersi simili lussi nessuno cioè che sia veneziano qualche ricco forestiero milanese americano o svizzero coltiva queste civetterie storiche per un paio di stagioni poi le abbandona per il più pratico motoscafo o torna a servirsi di un portoncino di quercia l'impressione quando si suona il campanello è sempre che sia guasto da mesi che anzi tutto l'impianto sia fuori uso da decenni nessun trillo oronzio arrivò alle nostre orecchie quando Chiara premette il moderno rettangolino di plastica con sotto il nome Zwanish scritto a macchina ma lo squillo aveva senza dubbio risuonato nella cavità più intima dell'edificio facendo sussultare una vecchia domestica semisorda che ora con le sue gambe gonfie e il suo passo stracicato si stava avvicinando per oscuri corridoi sentimmo invece d'un tratto una precipitosa successione di tonfi come di grossi cani lanciati in una corsa a ostacoli e il portoncino venne quasi divelto da due ragazzi alti biondi e bellissimi in scarpe da jogging e maglione i nipoti con un padre morto e una madre risposata in America mi aveva già spiegato Chiara studiavano a Milano qui venivano a trovare la nonna che era la proprietaria della collezione ancora ansanti per la gara i due ragazzi rientrarono nel formalismo inchinandosi per il baciamano il maggiore era rapato quasi a zero l'altro era pieno di capelli ciuffi instabili gli spiovevano da tutte le parti ci introdussero in un vasto atrio dove le continue irruzioni dell'acqua alta avevano dissestato i marmi del pavimento e di lì per uno scalone nobilitato da busti sette e ottocenteschi salimo all'atrio superiore tra porte molto distanziate sotto gli affreschi mitologici della volta divani lunghissimi attendevano nella polvere la ripresa delle danze un gatto grigio stava sfilando lentamente a coda dritta sotto i bracci colorati dell'immenso lampadario di vetro ma scappò via quando Chiara si chinò per accarezzarlo dopo un'altra rampa lo scalone si restringeva i gradini diventavano di rozza pietra su un pianerottolo sostava una portantina scura col cuoio a brandelli e lo sportello tenuto su con filo di ferro peccato disse Chiara sottovoce eh lo so commentò il ragazzo maggiore con totale indifferenza una porta qualsiasi dava su un corridoio dal soffitto bassissimo lungo il quale si aprivano numerose finestrelle poi veniva una stanza da sgombero dove erano accatastate sedie e seggioloni in un groviglio di gambe rotte e schienali sfasciati e infine oltre a una tenda di pesante panno color pulce bucherellata ralletarme si scendevano due scalini e girando a gomito si entrava in un'altra specie di anticamera senza finestre né lucernari mediocremente illuminata da un lampadarietto centrale e arredata con un lungo tavolo e due panche di legno dipinto intorno alle pareti intonacate di giallo e percorse da una rete di crepe polverose erano appesi i quadri della raccolta una trentina disposti su una fila o su due a seconda delle dimensioni che del resto erano abbastanza uniformi variando da qualche decimetro a un metro al massimo di lato beh io torno giù dalla nonna ci salutò il rapato lui disse accennando al fratello e a due lampade a piede orientabili collegate con lunghi fili a due prese d'angolo vi aiuterà a sistemare gli spot se volete vederci meglio lo ringraziamo e mentre il capelluto si immergeva nella lettura di un suo fumetto facemmo lentamente un primo giro niente di sensazionale almeno a prima vista e tuttavia sempre a prima vista meno deludente di quanto le informazioni di Chiara avessero lasciato prevedere tardi e anzi tardissimi tizianeschi e giorgioneschi tintoretteschi e veronesiani di ritorno bassaneschi della terza generazione ma tra i quali si sarebbe potuto celare chissà il dotato industria padovanino il truffaldino ma a volte ispirato Pietro Liberi l'estroso Pietro della Vecchia o qualche altro non dissimile imitatore dei grandi cinquecentisti oggi questa pittura di terzo ordine che i suoi rappresentanti non avevano esitato a spacciare per arte veneta del secolo d'oro su mercati lontani e non troppo puntigliosi stava riacquistando un discreto valore tra i 30 e i 60 anche gli 80 milioni proprio sul più specializzato mercato italiano per l'asta di folks a Firenze un paio di giorgioni riveduti e corretti dal della vecchia qualche tizianesca beltari fatta dal forabosco sarebbero andati a pennello se non che già al secondo giro e senza neppure bisogno di illuminazione supplementare tutta quell'apparente produzione seicentesca travestita da 500 cominciò a rivelarsi per un travestimento essa stessa una scipita raccolta della manna e un'enfatica meccanica estasi di Sant'Andrea uno sgangherato martirio di Santo Stefano tra due svolazzanti caotiche ascensioni lussureggianti e imbellettati olividi e legnosi ritratti di dame e gentiluomini gonfie e rossastre nudità di Veneri e Susanne al bagno in paesaggi dalle tinte porcellanose un truce mozioscevolo all'ara tra anacquate madonna di Loreto del parto del latte tutte queste croste tradivano non più le ascendenze rinascimentali ma la ripresa in chiave rococoe perfino neoclassica da parte di rossi mestieranti di un ormai codificato gusto veneziano per la contraffazione il plagio l'inganno la sola cosa che si potesse ammirare nella raccolta era la coerenza del raccoglitore un mercante arricchito probabilmente prozio o bisnonno della nonna attuale che nel formarsi una quadreria patrizia era stato guidato da un ferrio bigottismo estetico e da una sviscerata venerazione per l'antico non meno che da un innato senso del risparmio il nipote capelluto si accorse che c'eravamo fermate e alzò interrogativamente la testa vogliono più luce su qualche quadro? chiese accendiamo gli spot? forse sarebbe meglio di no non potei trattenermi da rispondere lui alzò leggermente le spalle dai commenti di altri visitatori doveva ormai aver capito che la vita collezione valeva poco o niente però disse richiudendo il suo fumetto e alzandosi sono sempre quadri antichi e la sovrintendenza non ha messo vincoli è tutta roba che si può portare all'estero la scettica implicazione a cui era arrivato per sentito dire o forse anche da sé era che roba simile si sarebbe venduta meglio in paesi quanto più lontani possibile ma dallo sguardo improvvisamente adulto e dal sorriso cupido bassamente reverenziale che sottolinearono le parole quadri antichi mi parve che non fosse un tris nipote ad accendere gli spot ma lo stesso tris nonno il commerciante e collezionista improvvisato a rischiararci con lampade a petrolio la sua insalvabile quadreria benché tra il primo e l'ultimo giro l'ispezione dei quadri non fosse durata più di un'ora quando chiedemmo al ragazzo di riaccompagnarci eravamo completamente intirizzite ma l'esposizione al freddo alla polvere e al silenzio è il prezzo che quasi sempre si paga in questo mestiere dove le cose vecchie belle o brutte o indifferenti che siano sembrano avere un loro influsso fisico un loro potere permeante che a poco a poco ti penetra nelle dita nelle gambe nella pelle ti fa condividere la rigidezza del legno del ferro il gelo del marmo ti trasmette rugosità e screpolatura di annose tele di carte tarlate muovendoci come burattini scendemmo dalla nonna chiara me l'aveva data per praticamente svanita e io mi aspettavo una larva rattrappita e balbettante con l'occhio vacuo ma non poteva essere così con due nipoti di quella prestanza anche seduta davanti a un caminetto al minimo delle sue possibilità la nonna manteneva un'imponenza cerimoniale con spalle erette e piene sotto lo scialle scarlatto un bel collo altero bei capelli ondulati tra il biondo e il grigio un visorose o paffuto appena compromesso da rughe discrete sono venute anche loro per i quadri disse limpidamente vadano vadano pure di sopra ci sono già altre due persone un intero negozio di bigiotteria per turisti le pendeva dal collo dalle orecchie dai polsi cominciò a magnificarci la collezione che la famiglia aveva conservato con cura grandissima trasportandola addirittura a Milano durante la guerra perché a Venezia non c'erano cantine e comunque gli austriaci potevano rompere il fronte del duca d'aosta e arrivare fin qui da caporetto che si sentiva già il cannone e così lei stessa insieme col domenico sgravati li aveva imballati uno per uno nella tela incerata nelle casse e con la gondola erano arrivati in terraferma e di lì poi l'automobile dello zio alvise metto un altro po' di legno a nonna chiese il nipote rapato se è per me io non soffro il freddo disse lei condiscendente ma se a voi fa piacere il troppo calore precisò rovinava la salute e rovinava anche i quadri che lei teneva di sopra in una stanza apposita senza finestre perché anche la luce era pericolosa gli cambiava tutti i colori era stato un parente di trieste uno che se ne intendeva a darle il consiglio tanti anni fa e lei da allora non li aveva più mossi di lì ognuno al suo chiodo ben conservato nell'ombra alla giusta temperatura ma noi non siamo mica quadri brontolò irrapato attizzando il fuoco il fratello aprì una piccola cassa panca mezza piena di legna gettò tre o quattro pezzi nel camino e sti zoveni del didanquo sospirò la nonna la testa grigio bionda cominciò una lenta rotazione di bambola un po' difettosa dirigendo gli occhi esageratamente aperti verso un tavolino ovale lì accanto sul quale entro cornici d'argento e di tartaruga erano fotografati personaggi di varia età e abbigliamento dalla fine dell'altro secolo alla metà di questo ma tutti ormai troppo stinti sbiaditi perché se ne potesse ancora incontrare lo sguardo chi traffica col passato si trova spesso davanti a queste pause di tristezza scarnificata assoluta che non è mai facile attraversare si inciampa e si resta impigliati in considerazioni che per essere ripetitive ovvie non per questo vi opprimono di meno mi riscossi con un'occhiata al fuoco che scoppiettava e dissi alla nonna che la collezione l'avevo già vista che avrei studiato ancora i miei appunti e che se i quadri ci avessero interessato per l'asta di Firenze gliel'avrei fatto sapere bene bene brava assenti lei hanno un grande valore vengono qui a vederli perfino da Londra da New York la pittura veneta è la più meravigliosa di tutte il nipote rapato ci condusse al portoncino riassumendoci la solita complicata storia di tasse passaggi ereditari spese di manutenzione per cui tutto il patrimonio se n'era andato pezzo per pezzo le terre la villa di campagna i titoli superstiti e ora la collezione presto la casa stessa lo stetti a sentire con punta ma mentre riattraversavo il campiello decrepito mi trovai a pensare con struggimento alle torri di cristallo di New York che si specchiano nude taglienti compatte le une nelle altre e il cui splendore è fatto di puro e infrangibile presente il palazzo ducale in complesso è piaciuto li ha soddisfatti anche se meno dell'angusto passaggio con finestrini laterali un segmento di 19 in pratica a metà del quale mister Silvera li ha fermati all'improvviso sapevano dove erano no no where are we usomnu donde estamos mister Silvera solo la ragazza portoghese che si chiama Tina o così almeno la chiama suo padre ha mormorato a voce bassissima dopo aver scrutato oltre i vetri incrostati di polvere talverso ponte proprio così il celebre ponte dove sospiravano gli infelici portati ai piombi e che altro è vederlo da fuori altro è passarci dentro come se i condannati fossimo noi on le goûte mieux si gusta meglio ha riconosciuto per tutti madame Durand i piombi stessi hanno invece un po' deluso dopo questa introduzione e così anche l'interno di San Marco giudicato troppo buio perché non si provvedeva a un'illuminazione decente ma soprattutto la pala d'oro sulla tomba del santo ha suscitato perplessità e dissensi non essendo veramente tutta d'oro come il biglietto d'ingresso lasciava credere i 28 ne discutono ancora puntigliosamente mentre seguono il loro accompagnatore verso la tappa successiva bisogna considerare prima di tutto il valore artistico osservano i difensori della pala e del resto benché la gran lastra sia d'argento anche le sue lamine auree devono avere un bel peso nell'insieme qui tuttavia i pareri si dividono e chi dice 2 chi 3 chi perfino 10 kg what do you think mister silvera ma mister sing e sua moglie i due bengalesi o cingalesi che siano continuano a sentirsi in qualche modo truffati e il loro mugugno ostile si aggiunge a quello di altri che avevano già gradito poco il picnic o lo stanno digerendo male adesso poi fa un freddo umido con un vento che impedisce perfino a madame di oran di gustare meglio la vista dei canali dalle spallette dei piccoli ponti troppi con troppi scalini che mister silvera si ostina a traversare quanto è ancora distante questo famoso campo san giovanni e paolo non si poteva prendere un vaporetto e se venisse a piovere qualche cosa non sta andando come dovrebbe e la colpa cominciano a pensare in diversi è anche di mister silvera che non si preoccupa più di animarli di tenerli su e si distrae invece a guardare per conto suo delle cose che non interessano a nessuno finestre dalle persiane ammuffite portoni sbreccati scalcinati muri da dietro i quali spuntano alberelli traversano adesso il grande campo di Santa Maria Formosa sotto un cielo che sebbene il pomeriggio non sia ancora avanzato non potrebbe essere più disastrato e cupo chiuso di bassa stagione ma proprio questo fa risaltare il contrasto con altri gruppi di passaggio meglio organizzati e guidati quello della ragazza francese per esempio che arriva di buon passo dalla parte opposta li incrocia allegro e animato agitando variopinti pacchetti murano gridano souvenir si tratterrebbero addirittura per mostrare gli acquisti fatti se la loro accompagnatrice non li spronasse avanti ridendo con le braccia alzate e battendo il dito sull'orologio vite vite les enfants la committiva dell'imperial ha rallentato e li guarda allontanarsi con invidia quelli là la loro agenzia non solo li avrà fatti mangiare al ristorante ma li ha anche portati alla famosa isola dove si fanno gli acquisti migliori invece che a questo San Giovanni e Paolo che nessuno ha mai inteso nominare la scura smorfia di Mr. Singh si fa più scura che mai mentre i suoi occhi corrono da sua moglie che ha cominciato a parlargli fittissimo in una lingua incomprensibile a Mr. Silvera in testa al gruppo ed un tratto la sua protesta salsa in un fiotto di sillabe ugualmente inestricabili stridule precipitate ma tra le quali il nome di Murano spicca in tono di aperta rivendicazione e minaccia Mr. Silvera fa ancora qualche passo poi si ferma e si volta ah mormora Mr. Singh tutti in un istante sono fermi nessuno si muove più ma già il vuoto si è fatto intorno a Mr. Singh perfino sua moglie gli ha lasciato il braccio e la ragazza Tina che ha lasciato quello di suo padre è praticamente in ginocchio sull'umido campo coi suoi levis azzurri e il suo trasparente impermeabile rosa mentre Mr. Silvera continua pacato il suo rimprovero abbi fede dice in sostanza Mr. Silvera e non dimenticare che tu e i tuoi compagni siete qui per poco ricordati che altri cieli altri mari vi aspettano contentati per ora del campo intitolato ai Santi Giovanni e Paolo con la sua chiesa famosa la sua famosa scuola grande di San Marco ora ospedale civile e l'ancor più famoso monumento al Colleoni e non è detto che prima delle sei quando dovremmo assolutamente essere di ritorno alla riva degli schiavoni non potremo permetterci anche il senso del discorso è così chiaro luminoso per tutti da oscurare per un momento il fatto che le parole non sono inglesi né francesi né portoghesi né spagnole lo stesso Rae Rajanat Singh il bestemmiatore ora contrito e attonito si rende conto soltanto alla fine che l'uomo dell'Imperial Tours gli ha parlato nella sua stessa lingua ora sono tutti di nuovo in cammino per strade sempre più strette scorciatoie che solo Mr. Silvera ha l'aria di conoscere e quando sbucano di fianco alla grande chiesa di Rupata in vista del nero condottiero a cavallo neppure si accorgono che si è messo a piovere il commercio antiquario fiorisce sulle rovine il dolore e la morte mi disse solennemente e raucamente la vecchia Mandelbaum una volta che ero andata a visitarla nel suo famoso ammezzato dell'Avenida Quintana a Buenos Aires ma Chiara non ha mai preso il tecola Mandelbaum non l'ha mai vista fumare i suoi sigari neri come i suoi pochi denti e rifiuta di ammettere l'aspetto francamente un po' sciacallesco del nostro lavoro anzi in opposizione a quello che lei chiama il mio cinismo mette su volentieri certi suoi veri da missionaria una sua nobile toga da giudice tutelare come se i pezzi delle collezioni che disperdiamo fossero negretti o piccoli asiatici scampati a massacri e carestie che si trattasse di aggiudicare esclusivamente a musei bene attrezzati galleristi integerrimi collezionisti di provata onorabilità non ad altro interessati che al loro bene questa volta poi sarà tutta impietosita pensando alla delusione che attendeva la proprietaria di quelle croste così amorosamente conservate fortuna che è mezzo rimbambita disse lascerà affare ai nipoti e si rassegnerà al poco che ne ricaveranno a me non era parso che la vecchia signora fosse tanto rimbambita ho l'impressione che sia ancora lei a decidere tutto obiettai poveretta in ogni modo chissà cosa credeva di avere è sempre così con queste collezioni di famiglia si montano la testa da una generazione all'altra si immaginano di avere la soffitta piena di tiziano e veronese per me è la cosa più triste quando mi tocca spiegargli che il loro preziosissimo lotto o palma il vecchio è solo una coppia e anche brutta dipinta due secoli dopo mi fa veramente male al cuore chiara è un'ottima persona è una collaboratrice e informatrice abbastanza in gamba ma vive di queste per così dire emozioni dipinte due secoli dopo i suoi pietismi entusiasmi sdegni rapimenti hanno tutti un po' l'aria della crosta fanno parte della sua affollata rigatteria emotiva anche la grande passione che l'ha portata a stabilirsi a Venezia a me non ha mai dato la sensazione di essere genuina autografa al 100% ha incontrato non so più dove questo pittore neo qualcosa o post qualcosa tedesco questo suo uve e ha piantato marito e figli piccoli se ne è venuta qui a cercare casa in un'isola della laguna non l'ha trovata e ora abita in fondo alla giudecca a un terzo piano con l'artista che non vende non fa mostre non sta diventando nessuno e secondo me non dipinge nemmeno più lo mantiene lei che è benestante di famiglia e qualcosa guadagna con me ce ne sono altri cento altri mille di menage come il suo a Venezia scultrici danesi compositori inglesi fotografi olandesi poetesse messicane romanzieri guatemaltechi tutti accoppiati con qualche compagno d'arte ed amore che mantengono o da cui si fanno mantenere hanno lasciato tutto che il più delle volte è niente per venire a vivere il loro sogno nella città più romantica del mondo e non la dimenticano un momento vogliono come i turisti farla rendere fino all'ultimo centesimo hanno pagato per essere qui e Venezia gliene deve dare per i loro soldi in suggestioni e ispirazioni esaltazioni sublimazioni varie andando in giro per Venezia al fianco di Chiara mi sento sempre sbilanciata è come camminare con una scarpa senza tacco io e l'altra con un tacco di 15 centimetri lei non dico che abbia tutti i torti ma è faticoso condividere le sue estasi per la minima vera di Pozzo Altana Comignolo o come quel pomeriggio per uno scorcio di Santa Maria dei Miracoli stupenda stupenda incredibile esalò fermandosi commossa no non ha tutti i torti ma l'enfasi con cui lei e le persone come lei si compiacciano di questi miracoli finisce per darmi una reazione di insofferenza verso la stessa Venezia a giustificazione di questa futile ripicca metto naturalmente il carattere orgoglioso e sbrigativo che mi sono sempre sentita rimproverare la mia impietosa avversione per ogni forma di sdilinquimento difetti ai quali non trovo rimedio ma metto anche l'autodifesa la necessità di resistergli e di tenerlo a bada questo famoso fascino del tempo che scorre e delle consunte pietre di Venezia e no che restano uno si deve per forza indurire in questo mestiere felino dove bisogna essere sempre pronti al balzo come il gatto che ora schizzava da un'inferriata della strettissima calle strappando a Chiara un oh atterrito anche questa essendo un'emozione veneziana da tesaurizzare e così di gatto in gatto di canale in canale di ponte in ponte lei fluttuando sul suo altissimo tacco e io camminando terra a terra sotto un cielo sgradevolmente più viginoso nel tetro rimasuglio a cui la luce si era ridotta sull'orlo del giorno arrivamo alla seconda visita di lavoro ecco Palmarin nel suo elegante e ben fornito negozio di antichità in calle larga 22 marzo ecco il suo impeccabile doppio petto blu a righine bianche ecco le sue manine le sue scarpe lucidissime lo spiavamo dalla vetrina mentre si aggirava con un sorridente giapponese tra comò specchiere statue linee tavolini intersiati è un uomo di oltre 60 anni ben portati di media statura sul rosondetto coi radi capelli biondi spalmati contro il cranio e divisi da un'ampia rigida scriminatura spera in tal modo anche con l'aiuto degli occhi slavati di aggiungersi una coloritura tedesca o svedese nazionalità che danno affidamento il risultato di questi sforzi è che ti sembra un vecchio attore d'operetta nella parte del barone cornuto gli manca solo il monocolo come antiquario non ha un fiuto speciale né mezzi che gli consentano grossi colpi se un affare è troppo importante per lui cerca piuttosto di interporsi come informatore e mediatore ma inclina allora allo speranzoso di fantasia vedo dovunque opportunità favolose occasioni inaudite che 29 volte su 30 si rivelano aria pura siccome però da questa sua esuberanza ogni tanto qualcosa salta fuori davvero Chiara si mantiene in contatto con lui e in certi casi a ogni buon conto mi avverte non si sa mai ma aveva detto anche stavolta al telefono riferendomi della villa di Padova l'inconveniente maggiore è che Palmarin non viene mai al punto se prima non t'ha intrattenuto sulle vicende private di mezza Venezia collegandole con la formula a proposito in cui vede probabilmente il massimo della disinvoltura la quintessenza dell'abilità diplomatica per cui la Repubblica andava famosa eravamo infatti appena entrate che già ci correva incontro col suo a proposito per informarci di folli orge con la droga organizzate dai padroni di casa in un noto palazzo di Campo San Fantin dalle quali orge a proposito di restauri che la Craig Foundation stava conducendo in altro palazzo passò al sensazionale incontro tra Marietto Grimani e sua moglie Effi trovati si faccia a faccia a Marrakesh in compagnia dei rispettivi partner mentre lei credeva lui a Venezia da solo e lui lei a coblenza dalla madre e a proposito di incontri Chiara che non sopporta le storie di infedeltà coniugali se non motivati da travolgente passione l'interruppe austeramente noi invece siamo stati a vedere la famosa collezione Zwanich e devo dire che ah squitti Palmarin io me l'aspettavo che non fossero dei capolavori vi dirò anzi che ci speravo perché se no i miliardi per competere con voi altre chi me li avrebbe dati intercalò a proposito calorose galanterie in dialetto alle due belle visitatrici e cominciò a fregarsi o piuttosto a maneggiarsi le manine con estrema delicatezza quasi fossero due preziose porcellane che temeva di rompere però delle croste simili disse sono state una delusione anche per me anche a comprare la partita in blocco non c'è da guadagnarci più di qualche milione una decina a dir tanto senza contare che della merce così ti squalifica la galleria mentre la villa di Padova chiesi venendo felicemente al punto Palmarin getta una rapida occhiata in strada come per assicurarsi che nessuno ci stesse spiando ah quello è tutto un altro discorso mormorò e ci spiegò a bassa voce come il proprietario dell'antica villa Marchese Debei un vecchio amico Nino ci conosciamo da trent'anni avesse una mezza idea di farla fuori con tutto quello che c'era dentro non ci andava mai era solo un peso e poi doveva esserci sotto anche una donna una tosa giovanissima con la quale Nino era stato visto a Cortina lui era vedovo e aveva una vecchia amante la moglie di Marco Favaretto ma 50 anni è un'età pericolosa quanti ne aveva visti lui Palmarin che si erano mangiati il patrimonio per una smanfareta gli chiesi a proposito se a questa villa si poteva o no dare un'occhiata domani stesso se per me andava bene domattina stessa alle 10 potevamo trovarci a piazzale Roma e di lì con la sua macchina sarebbe stato felicissimo di accompagnarmi di persona nella visita avrebbe provveduto lui a far avvisare i guardiani da Nino e tutto questo ci teneva a precisarlo senza nessuna particolare pretesa in via del tutto amichevole se l'affare fosse andato in porto lasciava a Fox di fissargli una piccola commissione a forfè e se no gli bastava uno dei miei sorrisi ma a proposito dissi dopo essermi segnata l'appuntamento dove è finito quel suo cliente giapponese che era qui quando siamo entrate ci guardammo in giro tutti e tre l'uomo se ne stava in un angolo accanto a una linea madonna friulana immobile paziente ligno lui stesso e ci sorrideva ancora un ampolline iridescente un grande fiore azzurro e nero un cigno bianco con le ali spiegate si formano magicamente all'estremità della canna che il maestro vetraio rigira tra le dita alternando alla soffiatura i ritocchi e l'aggiunta di altre gocce in fusione nella rosseggiante penombra della fornace poi i visitatori che grazie a mister silvera sono arrivati a murano non in vaporetto ma col motoscafo di proprietà della vetreria vengono fatti passare nei locali di esposizione qui tra cristallerie ed ogni specie tutta una flora e fauna vetrificata salinea sui ripiani degli scaffali mentre sotto foreste di lampadari in lunghissimi tavoli a vetrina scintillano a migliaia i gioielli di fantasia attention please mister silvera batte le mani per raccogliere i suoi un po' in disparte prima che si confondano con la numerosa clientela altre comitive o turisti isolati che il motoscafo della ditta continua a scaricare nel suo va e vieni tra murano e le fondamenta nuove dunque spiega mister silvera ogni oggetto ha il suo prezzo chiaramente indicato un prezzo già scontato di fabbrica ma l'imperial tours ha diritto a un ulteriore sconto del 5% o anche del 10% per gli articoli più costosi per cui chi acquisterà qualcosa non dimentichi di fare il nome dell'agenzia alla cassa l'annuncio che conferisce ai clienti dell'imperial anche una certa superiorità sugli altri gruppi viene accolto con particolare compiacimento il signor Bustos e sua moglie si dirigono subito verso uno scaffale dove delle piccole gondole complete di gondoliere con remo sono in offerta speciale a poche migliaia di lire mentre a Venezia sarebbero costate chissà quanto Madame Durand si orienta invece verso dei leoncini di San Marco gialli e blu molto più fini di certi altri apparentemente simili per i quali in città chiedevano lo stesso prezzo mentre i coniugi Singh e l'anziana Miss Gardiner cominciano a esaminare dei pezzi più importanti e dunque più vantaggiosi dato il maggiore sconto qualcuno si interessa perfino ai lampadari ma la maggior parte si affretta alle bigiotterie disperdendosi in breve tra le vetrine Mister Silvera accende una sigaretta e se ne va a fumare sulla porta guardando la pioggia guardando i vaporetti della linea 5 che arrivano e ripartono dal faro considerandosi ogni tanto le scarpe bagnate e forse bisognose di una risuolatura lo attirerebbe l'idea di andare ad aspettare in un caffè ma qui attorno non ce n'è più nessuno gli ultimi hanno ceduto il posto anche loro a chincaglierie negozi di materiale fotografico e cartoline guide illustrate articoli da regalo finisce per tornare nello stanzone della fornace dove il maestro vetraio è sempre all'opera ma gli spettatori cominciano a scarseggiare per via dell'ora ormai avanzata e della pioggia accende un'altra sigaretta fuma appoggiato al muro in un angolo semibuio c'è merveilleux wonderful prikrasni gli arriva il mormorio dei visitatori ogni volta che in fondo alla canna si ripete il miracolo dell'ampollina del fiore nero e azzurro del cigno ad ali spiegati me upaeno kerke fume dice la ragazzatina suo padre non vuole che fumi per questo è venuta a fumare qui dice mostrando la sigaretta con un piccolo sorriso complice come una riprova del fatto che il padre non la lascerebbe fumare il che non è vero perché per strada poco fa fumava benissimo del resto aspira poche boccate e butta via per frugare invece nella sua sacca da cui estrae un pacchetto di wafer un biscotto offre o signor no comeu vorrebbe rimproveragli di non aver mangiato niente da stamattina ma la carica di disinvoltura che s'era data non la sostiene più non le riesce di finire la frase ha paura che lui rifiuti e soprattutto che gli venga in mente che lei come del resto è quei biscotti li abbia comprati apposta per offrirglieli molto gentile dice invece mister silvera prendendone due a quest'ora è proprio quello che ci vuole due però sono troppo pochi insiste Tina rinfrancata oh signor no comeu ancora uno ma poi basta perché ormai è tardi tra poco bisognerà andare via e poi stasera si pranzerà molto di buon'ora ma lei ha già comprato qualcosa di là ha trovato un bel souvenir sì suo padre le ha comprato degli orecchini di diamanti si mette a ridere Tina si tira indietro i capelli nerissimi per mostrare due dischetti di cristallo rosa legati con un filo d'ottone come le stanno mister silvera la prende per un gomito per portarla più in luce vediamo dice facendole anche salire i due gradini che riportano all'esposizione molto bene a prova le stanno magnificamente look look mister silvera interviene mrs wilkins che ha comprato per sole 8.550 lire sconto compreso un braccialetto di perle di tutti i colori isn't it beautiful è bello e le sta benissimo la complimenta mister silvera e anche mistina ha scelto bene dice invitando Tina a mostrare i suoi orecchini lovely grida mrs wilkins li comprerebbe quasi quasi anche lei se non fossero cari i suoi costano molto poco ma ce ne sono legati in argento e anche in oro spiega timida mistina ah le dice serio mister silvera ma sono soltanto dei souvenir non conviene pagarli troppo cari i souvenir no dice Tina abbassando gli occhi improvvisamente tristissima mister silvera batte le mani cominciando a raccogliere il gruppo attention please incarica poi la stessa Tina e i signori Singh di radunare tutti fuori dove ormai non piove più e va alla cassa a sentire per il motoscafo sarà possibile chiede averlo anche per il ritorno ma la cassiera dice di no per altre corse è troppo tardi senza contare che i clienti dell'imperial hanno speso veramente troppo poco you see dice mostrando il foglio dove ha segnato gli acquisti della comitiva ha già calcolato comunque anche la percentuale che spetta all'accompagnatore e apre la cassa per pagarlo no aspetti compro anch'io qualche cosa già che ci sono dice mister silvera in perfetto italiano si volta e torna verso uno dei tavoli a vetrina cerca un momento indica qualcosa al commesso no motorboat sorry annuncia poco dopo raggiungendo i suoi 28 ma dal famoso faro you see the faro the lighthouse over there partono i vaporetti della linea 5 che arrivano direttamente agli schiavoni hurry up now vite depressa quando il 5 sbuca dal rio dell'arsenale e li deposita in fondo alla riva degli schiavoni ripartendo mezzo vuoto per san zaccaria sono quasi le 6 e mezzo fa ormai buio del tutto e ha ripreso a pioviginare alcuni si attardano ad aprire gli ombrelli vite hurry li stimola mister silvera dando il braccio a madame duran che esita ad affrontare i gradini scivolosi del ponte non è lontano li incoraggia si incamminano per la riva san biaggio lungo una fila di battelli all'attracco neri e silenziosi non passa quasi nessuno anche nel bacino di san marco che una lenta foschia va invadendo tutto il movimento si riduce a un traghetto e a un paio di motoscafi per il lido le cui luci non si distinguono più la stessa isola di san giorgio è scomparsa è come se la bassa stagione improvvisamente avesse raggiunto un punto di bassezza oltre il quale non c'è più che il vuoto assoluto il nulla non sarà mica troppo tardi benché nessuno osi confessare questo dubbio neppure a se stesso molti cominciano a guardare di traverso mister sing ritenuto il principale responsabile della gita a murano non sarà mai tardi signor silvera azzardatina a bassa voce mentre arrivano ai piedi di un altro ponte o barco non sarà no o barco non è partito o barco ci aspetta la rassicura un signor silvera aiutando madame duran su per gli ultimi gradini e offrendo a lei l'altro braccio eccolo là il barco poco più avanti sulla riva dei giardini tra scure sagome di naviglio minore è attraccata una bella nave bianca con tutti i ponti e gli oblò illuminati con tutti i fanali accesi con mille lampadine che salgono in due file brillanti fino all'antenna dei segnali sull'alta prua il nome spicca in magici caratteri greci basilissa tuionio annuncia o chirio silvera con un gesto adeguato verso la regina dello ionio the queen of the ionian sea la reine de la merionienne davanti alla quale diverse comitive sono ancora in attesa di imbarco quella del contadinello biondo passaporti alla mano sta salendo ora sulla passerella ma al di là della nave e della laguna al di là dell'adriatico e dello stesso ionio con la sua verde perla corfu il gesto evoca lontananze ancora più suggestive fino a creta a rodi alla favolosa cipro che l'imperial tours schiude ai croceristi del suo imbattibile tutto compreso venezia con le sue gondole e i suoi piccioni non è stata che un'introduzione un semplice anche se splendido preludio il viaggio vero comincia adesso so